Ragazzi, ma c'è Porky! Ciao Porky, come stai? Sei venuto a far parte anche di questa serie, eh? Piccolo porcellino Bene tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti su questo nuovissimo episodio Oggi stiamo di nuovo su questo episodio della serie di... Come le chiamo la serie, già? Mi sono andato al secondo episodio, ma non mi ricordo come le chiamo Boh, chiamiamola Colpo alla Banca E in questo episodio ragazzi, stiamo a fare il colpo alla... Quindi direi subito di partire Allora, qui innanzitutto una bella banca Non c'è niente da dire Tiro una leva, non si dico niente Però, apro la porta E entro prima che si chiudano Adesso però... Oh, ma già fai! Allora, il segreto è mettersi di lato Un po' avantino Che c'è il pulsantino di entrare Ok, ci ho fatto Ok, e abbiamo trovato anche il codice che ci dava... Tratto, c'è una porta aperta Quindi non dovremo anche fare il codice perché c'è la porta aperta Però dai, noi lo facciamo allora Il codice è... 1 1, 3, 4 1, 3, 4 6 E... 7 7 E anche 10 A, 5 E... A, B, C Quindi cosa dobbiamo fare? A A B non c'è Quindi C A, C, D A, C, D G E Jay Ma Ah ragazzi ho capito Io avevo il culo grosso Allora non ci passavo tramite una porta Quindi dovevo prendere Ho capito Oh cavolo Allora in queste carte le dicono Cioè io dico Questa è la prima stanza Penso che possa cambiare la direzione delle rotaie Con le leve Questo dovrebbe essere facile Poi ci dice di scacciare sul pulsantino del minecart Per Adirizzare verso dove Credo che qua sotto Da qualche parte Innanzitutto vediamo cosa potrebbe succedere Che figata ragazzi Guardate là sotto Cambia la direzione della rail Ok ragazzi allora vado solo un attimo A studiarmela come fare Anche perchè sto laggando un pochino Per vedere come fare Anche perchè tipo farlo in diretta Sarebbe un po' noio Non so ancora da dove partire Quindi ci rivediamo Da pochissimo Allora ragazzi Spero di aver fatto Giusto l'enigma Tra l'altro ho trovato Cioè ho un carrello Già in mano Però ho trovato anche la cesta Che ci dà più carrelli In caso di tentativi sbagliati Non ho fatto Nel tentativo Sono riuscito a partire Ho avuto la brillante idea Di fare Tra l'altro Perchè deve la gara Ho avuto la brillante idea Di fare un pezzettino all'inizio E poi partire dal fondo E seguire tutta la strada Che non mi riportava dall'inizio E secondo me Ciò che ho fatto Dovrebbe essere giusto Quindi vediamo subito Se il carrello arriverà Qua Che lo vedo già Dovrebbe Eccolo lì Secondo me Qua non funzionava bene Perchè tanto Era già aperta L'avete visto anche voi Quindi Intanto qui fa buio Quindi devo anche leggermi i cartelli E Che palla Allora ragazzi Ho capito Allora Diciamo c'è il dialogo Che ci c'è Ok ho fatto la prima camera Adesso c'è la seconda camera Però è molto buio E ci sono Wires Che non so Come si chiamano Delle trappole a filo Secondo me Cioè Se lo chiamare così Che non bisogna Che noi le calpestiamo Vi faccio anche subito Vedere in cosa consistono Consistono in queste Cose qua Che se io le calpesto Devo ritornare all'inizio Quindi ritornare qua Quindi ovviamente Devo saltarle Perchè non mi devo fare sgamare Secondo me Spero so che non sia un labirinto Perchè sennò Veramente una palla Qui secondo me Devo correre Ok Poi ragazzi Ah Come on dude Really Su serio Che pizza però Oh mio dio Vabbè ragazzi Facciamo una cosa Piuttosto che partire Proprio dall'inizio Perchè sennò Diciamo È proprio una palla No Ripartiamo tipo Dall'ultimo checkpoint Ogni volta che facciamo Un salto Qualcosa del genere Lo conseguiamo Checkpoint Anche perchè Troppo noi Poi non si vede Neanche niente Qui però No Che pizza Ok ragazzi Sono ritornato qua Allora Avevo detto che Ogni cosa che facevamo La schippavamo Però mi sono accorto Che è veramente Non sarebbe stato Abbastanza bello Però anche farlo Registrandolo Sarebbe diventato Un episodio troppo lungo E noioso Allora Io ritorno indietro Poi ogni volta Che arrivo di nuovo qua Ve lo Diciamo Registro di nuovo Diciamo che Quello sbaglio Che ho fatto prima Mi ha fatto capire Che io Da qua Dovevo andare subito qua E qui ci dovrebbe essere Il filo E dovrei andare dritto Ok qui Ah qui c'è una trappola Filo Hop Ce ne sono due Ragazzi mi sono fermato Proprio al Al Diciamo Al limite Mi sto concentrando Perchè qua Non riesco a capire niente Secondo me dovrei andare qua Poi saltare Che qui ne ho visto un'altra Ok Qui c'è qualcosa Quanto pare No Dimmi solo che non c'è Labyrintho Perchè sennò veramente Anche fare labyrintho Con questo buio Qua ti perdi Ok Ce l'ho fatta Non so se voi vedete qualcosa Penso di no Però Qui Dove si va No Non ci credo Non No 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 Devo rifarmi tutto La capo Che tre palline Ah Il mio dio Ce l'ho rifatta Ragazzi Sono di nuovo qua Da ricordarmi Che qua c'è un Ma posso andare là Non posso andare qua direttamente Però se mi saltassi Schifoso personaggio Idiota Un po' Da capo Oddio Secondo voi lì c'è qualcos'altro Qua Per me no Eh appunto Non avevo saltato Cosa dovrei fare Dovrei fare un doppio salto Mi stai prendendo per il culo Ma dai ma sono su questa pedana Ragazzi guardate Se schiacci sono su questa pedana Non sono su quest'altra pedana Che filo Aggregato però Ma che schifo di gioco è Madonna Sì Ciao Luci schifose Ok ragazzi Se di nuovo è arrivato qua Il doppio salto Vediamo se ce la faccio A farlo Però mi diceva Che io posso camminare anche a lato Cioè Al posto di saltare No Perché se cammino proprio vicino A queste cose qua Non si attiva E ho provato prima Ed è vero Però non so Se farlo In questo modo Si incaccitare Oppure no Ma che caldo di salto ha fatto Sto cosa Ma mi usa in bolt Ma neanche Beh Aspettate Solo per essere un po' sicuro Allora Secondo me Sì Lì Devo andare da questa parte Quindi Andiamo subito a capo E rifacciamolo di nuovo Yeah Allora Che p***o Allora No Devo ritornare da capo Oltre ad aver perso Dei minuti Per mettere sto schifo Di tablet A caricare Adesso Devo fare In cane Ok Ragazzi Siamo di nuovo Questo schifoso Angolino Di prima Che Qui Non mi ricordo C'era il filo No Ok Quindi io dovrei Fare un altro saltuccio Ok E Fare un altro saltuccio Ma è impossibile Fare 40 metri Di salto Madonna Allora ragazzi Non mi frega più Un cavolo Me ne vado proprio Al lato Di queste cose qua Ok Facciamo fin Da che non avete visto Niente Perché veramente Mi sono rotto Il cazzo Rimettiamo a posto Sta cosa qua Ragazzi ve lo giuro Non ce la faccio più Sono passato a lato Dimmi 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 con il cavolo Ho fatto ad attivarsi Ah perché ho rotto La cosa Lì quindi Rimettiamola subito a posto L'ho messa a posto Sì E Buono Spero so che non mi rompa più L'ho messa o no Ah l'ho messa adesso Quindi rimettiamo subito A posto Ste cose qua E Proseguiamo Qui c'è una trappola Qualcosa No Ok Io non ci vedo un cavolo Però Dimmi che è finita Perché veramente Non ce la faccio Veramente proprio più No 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 Mi stai prendendo per il culo Dimmi Il culo ti prego Perché No No Ragazzi Veramente Non me ne frega più Un cavolo Me ne vado Tanto Ero anche alla fine del livello Quindi Cazzo Me ne frega Io esco Ciao Allora This is A very safe Allora Qui è veramente Una banca Molto Proletta Ma sono Ben più Che sicuro Che I sistemi Di sicurezza Qui Here I have to be fast Quindi ci sono Dei buoni sistemi Di sicurezza Devo essere Molto veloce Ho Cinque Colpi No Cinque Devo sparare a cinque Pulsanti Quindi con cinque colpi Che dovrebbero attivarsi Allo stesso tempo Certo Come no Qui che cavolo c'è tra l'altro Alla porta E dimmi come cavolo Distribuità infinita Quindi mi serve una freccia Dimmi come cavolo Faccio io ad attivare Tutti i pulsantini A me tanto è vero Sono pulsantini di lane Quindi dovrebbero rimanere accesi Uno Oddio perché ragazzi Con la nuova versione Non ha aumentato tantissimo La sensibilità Infatti Il minimo E guardate come va veloce Come non Scifoso Maledetto Ok Dai Anche lui Che ragazzi Se veramente fosse stata Una banca del genere Mi chiederei Chi è lo stupido Che si farebbe Tipo C'è indistruttibilità Cento Quindi Manca un grafis Fa starco Abbiamo aperto la porta Di nuovo buio Che palle però No Cosa c'è qua Parkour Che figa Che figa Che segni I cartelli Che sono illuminati Quindi siamo arrivati A un'altra stanza Allora ragazzi Direi che veramente Io non ce la faccio più Quindi Per il prossimo episodio Tra l'altro ho attivato Le pressure plate Quindi secondo me Non devo attivare Perché se no Devo ritornare tutto da capo Però facciamo un po' di luce Giusto che Concludo l'episodio qua Al prossimo episodio Ragazzi Dovremo arrivare Là Vabbè Per il più che ho lanciato Una freccia Là In quella stanza lì Facendo tutto il parkour Che veramente è davvero dura Come fare il parkour Senza scherzo Le pressure plate Quindi sulle pedane Però ovviamente Tutti i livelli Sono possibili Quindi Niente Allora ragazzi Chiudo qua il video E ci si becca Alla prossima Bella